Buonasera e ben trovati terzo millennio si parla ancora di elezioni abbiamo ormai appurato Roberto Valtiere nuovo sindaco di Roma il candidato del centrosinistra ha nettamente vinto su Enrico Michetti sarò il sindaco di tutte le romane e di tutti i romani questa è la sua prima affermazione abbiamo ampiamente parlato ieri un po di quello che è successo ma anche di quello che succederà cerchiamo di portare avanti il discorso e di rispondere anche alle vostre domande con Riccardo Corbucci coordinatore del partito democratico a Roma buonasera buonasera con il dottor Fabrizio Santori della Lega buonasera buonasera con Paolo Ferrara consigliere uscente del Movimento 5 Stelle buonasera buonasera e con Andrea De Priamo capogruppo uscente per Fratelli d'Italia buonasera 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 iniziare subito da lei mi ha detto una frase molto singolare molto particolare oneri e onori questo è quello che avrà il nuovo sindaco perché ricordiamo che Roma è una città molto molto complicata diceva ieri Ferrara è una sorta di imbuto cioè ci sono i soldi ma non si sa come spenderli come lo vede Gualtieri secondo lei sarà un buon sindaco? Ovviamente io sono preoccupato non tanto da Gualtieri quanto dal fatto che ritorni questo al di là del rituale augurio di buon lavoro e degli auspici che si facciano comunque buone cose per la città ma chiaramente dal punto di vista politico sono un po' preoccupato del ritorno della sinistra in Campidoglio e anche come dicevo prima con alcuni addentellati piuttosto estremi ci saranno dei temi su cui sicuramente ci divideremo molto perché sono temi proprio direi valoriali noi rappresenteremo la destra in Campidoglio rappresenteremo appunto alcuni valori e su quello faremo un'opposizione molto dura e molto intransigente come c'è caratteristica fare. D'altro canto invece spero che Gualtieri possa capire e voglia capire che Roma ha bisogno di una rinascita, ha bisogno di una nuova stagione e non ripeta l'errore che purtroppo ha fatto chi l'ha preceduto, quindi Virginia Raggi, di non confrontarsi adeguatamente con le altre forze politiche perché io credo che su alcuni temi appunto quello dei recovery fund, quello del giubileo, quello di Expo, quello della rete metropolitana, delle infrastrutture della città, un sindaco intelligente a prescindere dalla sua appartenenza politica debba coinvolgere tutte le forze politiche cercando di trovare almeno quello che unisce, ripeto ci sono molte cose che divideranno e noi non smetteremo mai di sottolinearle, ma sulle cose che possono unire e che riguardano il bene della città, noi di Fratelli d'Italia ci siamo e ci saremo, quindi se da questo punto di vista ci sarà un atteggiamento più aperto da parte nostra, una mano per il bene della città pur nella forte distinzione e diversità politica, pur nell'opposizione due del transigente da parte nostra ci sarà, ci sarebbe stata anche con la Raggi che purtroppo questa mano non ce l'ha mai tesa, oggi sarà l'opposizione con noi. Sono parole molto belle le sue ma invece all'interno del centrodestra ci sarà una reunion, per usare un termine un po' folcloristico, cercherete di capire perché il centrodestra poi ci sono posizioni abbastanza divergenti, soprattutto dal punto di vista politico, nel governo ci sono due partiti che stanno nel governo, voi siete all'opposizione, è una situazione abbastanza singolare, questa Giorgia Meloni l'ha sottolineata in modo molto importante, l'ha proprio scarabocchiata durante le prime dichiarazioni post voto, ci sarà qualcosa, farete un confronto? Allora questo è un tema soprattutto nazionale che giustamente Giorgia Meloni ha sottolineato e che ripeto può durare una stagione di emergenza, ma poi una coalizione che vede una parte all'opposizione, una parte al governo e poi su alcuni temi, penso al Green Pass o altro, anche posizioni abbastanza diciamo distanti, non può durare, però devo dire che questo è un problema che riguarda il centrodestra nel suo insieme a livello nazionale, sul livello romano come su livelli delle varie regioni che amministriamo a mio avviso alcune o quasi tutte o tutte anche bene, molto bene, non c'è, quindi da parte nostra con i colleghi, a parte che Fabrizio Santori qui presente è una persona che conosco, un amico di vecchia data ma al di là di quello con le altre forze politiche del centrodestra ci sarà da parte nostra, chiaramente Fratelli d'Italia ad oggi a Roma è trainante e non solo, il risultato dice questo, ma massimo rispetto per le altre forze politiche presenti in aula del centrodestra, da parte nostra ci sarà la volontà di coordinarci, di fare anche alcune iniziative insieme, assolutamente. Beh anche perché come diciamo Roma è una città assolutamente complicata, allora Santori ieri abbiamo detto una cosa particolare, innanzitutto il suo libro, ricordiamolo, perché lei oltre a fare politica tra tanti anni con grande passione, un po' come tutti i presenti, ogni tanto dirà fuori una perla, non si sa come, dove trova il tempo, farà una campagna elettorale e l'altra. L'ultima perla me la racconta perché è un libro molto stuzzicante. Quello dell'apertura, aprire un'azienda agricola, è un edito della maggior editore, è un testo che sta andando molto bene perché sta cercando di istradare tanti che vogliono cambiare vita e vogliono buttarsi nell'agricoltura, hanno un'idea, ma questa idea non la sanno quantificare, cioè non sanno se questa idea nell'agricoltura, anche tramite i tantissimi finanziamenti che ci sono, può essere in qualche modo sostenibile, cioè può portare un reddito in quanto tempo. Quindi con questo testo io aiuto l'agricoltore manager, l'agricoltore 4.0, a costruire un business plan tramite un programma informatico che è allegato al testo. Vediamo su questo punto, perché questo è interessante, poi sentiamo anche gli altri. Lei tira fuori, non so come fa. No, vabbè, questa è la mia professione, però non c'è. No, però tira fuori continuamente i programmi informatici, quindi se li inventa di tutti i colori proprio. Cioè, questo è una cosa molto singolare ed è un libro che noi consigliamo, perché a prescindere dalla sua veste politica, è interessante perché è un ritorno alle origini, che tra l'altro è un ritorno alle origini molto funzionali, cioè è proprio il green di cui si parla il PNRR, quindi è una cosa importante sapere come si fa. Sì, in questo momento ci sono tantissimi finanziamenti che possono essere colti, non solo specifici sull'agricoltura, ma anche su altri campi su cui le aziende agricole possono accedere. Però chiaramente tanti hanno difficoltà, perché si devono far aiutare sicuramente da qualche professionista, però non costruiscono un business plan, appunto un piano organizzato dal punto di vista economico-aziendale per capire quanto investire e quanto recuperare dall'investimento, se l'idea riesce ad ottenere determinati risultati, cioè come vendere il prodotto, come venderlo. Quindi questo vale sia per il PNRR, ma vale anche per i tantissimi bandi che staranno arrivando sul PSR regionale, non solo l'ISMEA con l'accesso al primo insediamento, i tanti fondi dedicati alle donne che si dedicano all'agricoltura e non solo, anche finanziamenti europei diretti, come l'ultimo recente con un bando straordinario che vale solo per la programmazione, o meglio per la promozione dei prodotti agricoli. Quindi ci sono tantissimi milioni di euro che non vengono utilizzati dai nostri agricoltori. Tanti vengono accorpati con le varie associazioni in realtà, ma singolarmente, siccome gli agricoltori in questo momento non sono solo coloro che utilizzano il trattore, ma devono essere dei veri e propri manager per vivere sul mercato, altrimenti vengono schiacciati dalla grande distribuzione, è importante approfondire, studiare per poter accedere ai tantissimi finanziamenti che ci sono. E' importante studiare, approfondire e anche tutelare i nostri prodotti, cioè per quanto riguarda i prodotti biologici, i prodotti del food e del beverage, siamo in un merito al mondo, possiamo dirlo con orgoglio, cioè cerchiamo di tutelare e di stimolare i nostri giovani anche in questa direzione, mi sembra una bella iniziativa, no? Assolutamente, Fabrizio Santoi è una persona creativa, comunque è un tema fondamentale anche perché le opportunità che da oggi, che si sono purtroppo nella tragedia Covid scoperte dello smart working, che poi è qualcosa che si sarebbe dovuto attivare decenni prima, stanno spingendo più persone a ipotizzare anche un allontanamento dalle metropoli, quindi rivitalizzare anche i borghi, in questo caso anche al di fuori della nostra città o magari nella periferia della nostra città, che ricordiamola ha una vocazione agricola per quanto inespressa molto molto forte, e c'è tutto un tema, un mondo che si può riattivare anche in forma sostenibile e di difesa poi delle tipicità, delle specificità dei prodotti locali. E sarebbe molto bello perché ricordiamo che Roma, oltre ad essere una città assolutamente fantastica e meravigliosa, è anche una città green, una città verde. Mi veniva anche una battuta, ma scherzosa. Prego, prego. Ferrara non me ne voglia, così poi mi congetto con questa, eventualmente Santori può regalare qualche libro ai tanti 5 Stelle che stanno lasciando il Campidoglio. Però questa è, mi perdoni De Prio, ma mi lascia così, per cortesia. Grazie, buon lavoro Ferrara. L'ha attaccata, l'ha punzecchiata. Ma sì, ma leggeremo il libro di Fabrizio molto volentieri, magari ci saranno anche degli spunti importanti. Sul discorso del green, della transizione ecologica, non prendiamo lezioni da nessuno. Era una delle nostre 5 Stelle, sapete che abbiamo voluto, a livello governativo, un assessorato, scusate, un ministro che comunque si occupasse di questo, per cui credo che probabilmente anche noi possiamo insegnare qualcosa a loro. Benissimo, allora, lotta alla criminalità, lavoro, trasporti, cosa si prevede, Corbucci per Roma? Cioè, Roma, lo diciamo sempre, noi lo ripetiamo, lo ripeteremo fino alla fine, cioè noi siamo innamorati della nostra città, non vogliamo andare via, vogliamo rimanerci, ma vogliamo godercela. Quali sono le prime cose da fare? E poi una domanda, faccio una domanda, perché ovviamente io sono diversamente giovane, ho ancora un po' di voglia di fare qualcosina, ce l'ho. Roma è una città poco divertente, poco ludica, cioè bisogna lavorare anche in quella direzione, e vengono i turisti. No, il turista viene, meravigliosa, abbiamo tutto di più, però poi manca un perché per tenerli, invece che tre giorni, sei. State lavorando in queste direzioni e come? Allora, innanzitutto Roma sarebbe una città meravigliosa, quindi il primo punto che Gualtieri ha messo nel suo programma, e anche la prima azione che farà, è una pulizia straordinaria della città, perché Roma purtroppo è diventata negli ultimi anni una città molto più sporca. Municipio per municipio? Assolutamente, molto più sporca e molto più degradata, quindi questa è la prima in assoluto, l'ha ripetuta anche ieri ovviamente, soprattutto con le elezioni. C'è un tema che è quello che abbiamo sfiorato, diciamo, in queste sere, ovvero la necessità di dare sviluppo economico a questa città, quindi di aiutare quegli imprenditori, quei commercianti, tutte quelle persone che si occupano, diciamo, di costruire opportunità. Come però? Come? Ad esempio, di fatto, cominciando a lavorare seriamente per rendere non più soltanto temporane, ma ovviamente con tutto quello che bisogna fare, ovviamente con le nuove regolamenti, diciamo, sul commercio, ma ad esempio le pedane che sono state date in via straordinaria per il Covid ai commercianti, noi abbiamo in questo momento la possibilità. Ecco, quelle per esempio verranno procrastinate oppure no? Io credo che sia necessario procrastinarle regolamentando ovviamente, mettendo mano al regolamento che ha delle carenze e che va quindi migliorato, andando, diciamo, incontro anche ad alcune che sono richieste che vengono ovviamente dai residenti, ma già in alcuni quartieri ci sono progetto pilota, penso a quello del Portico d'Ottavia, dove progetti sono stati presentati più volte a questa amministrazione da residenti e da, diciamo, imprenditori insieme e purtroppo questo va detto, non me ne voglia Ferrara, spesso l'amministrazione è stata sorda, quando parlo di amministrazione parlo ovviamente della sindaca in modo particolare, è stata sorda, diciamo, rispetto a questi progetti che arrivano anche dal territorio e cosa molto, diciamo, grave, secondo me, ed è la prima cosa che dovremmo rifare insieme, parlo con tutte anche le altre forze politiche, ridare dignità e forza al Consiglio Comunale, all'Assemblea Capitolina, dove purtroppo in questi anni, soprattutto negli ultimi due, l'Assemblea Capitolina aveva perso, diciamo, il suo ruolo fondamentale, cioè quello di discutere le questioni, di affrontarle, di ascoltare i cittadini, anche di far cambiare idea alla Giunta e al Sindaco quando è necessario, perché ovviamente noi tutti siamo eletti consiglieri comunali, perché siamo portatori di visione e di ovviamente tanti cittadini che ci hanno eletto, quindi di far sì che ci sia una partecipazione attiva con la cittadinanza, ma anche far tornare il ruolo del Consigliere Comunale, non semplicemente il ruolo di chi alza la mano dicendo che tutto quello che dice il Sindaco o una Giunta è corretto, ma anche correggendo, aiutando, migliorando le proposte che arriveranno in ala giudice Cesare. No, naturalmente io non sono d'accordo, perché poi alla fine si elogia l'occupazione di suolo pubblico, l'ha fatto l'amministrazione precedente questo, io credo che vada anche ampliata questa manovra, ma non solo, noi siamo stati quelli che a Roma hanno fatto il microcredito, ovvero abbiamo fatto in modo che le persone che si rivolgono all'usura e dopo la pandemia è stata ancora più importante, questo possono avere, e questo dovevano continuarlo e devono, secondo me, anche allargarlo, possono avere lì dove non trovano comunque casa in una banca, perché vengono cacciati da una banca, trovano il comune che possa garantire per loro e possa dare risorse affinché un'impresa non vada comunque a morire. Durante la pandemia abbiamo fatto cose straordinarie con questa amministrazione, aiutando i cittadini in un momento difficile, dove chiaramente le amministrazioni di tutto il mondo erano impreparate, perché questa pandemia ha colpito tutti in modo improvviso, questo dobbiamo dirlo, io credo che l'amministrazione abbia fatto veramente tanto e sia stata a contatto con i cittadini. Io per primo ho trasformato nel mio municipio il decimo, la sala consigliare in un posto dove le persone venivano a fare la spesa gratis durante il periodo della pandemia, ero io lì a consegnare i pacchi, le buste alle persone che avevano problematiche segnalate naturalmente dai servizi sociali, per cui io credo che dire che questa amministrazione non sia stata a contatto con la gente in quel periodo sia qualcosa di sbagliato. Certo, ci sono ancora più risposte da dare, perché poi il turismo e il sistema a vedere abbiamo sbagliato, i buoni spese sono stati dati, sono stati tanti e hanno aiutato le famiglie romane. Detto questo, dobbiamo pensare al turismo perché il turismo sta ritornando e è chiaro che vanno fatte anche delle manovre. Questa amministrazione ha fatto 800 eventi sportivi in questa città, proprio per far rimanere i turisti. È chiaro che poi c'è stata la pandemia. Dobbiamo continuare su questa strada, eventi sportivi, avevamo promesso in campagna elettorale che ci sarebbero state 50 nuove biblioteche, arrivare a 50 si fa un presidio culturale nelle periferie, ci sono tantissime cose ancora da fare, facciamole. È chiaro che partendo anche dal discorso della legalità perché questa amministrazione ha fatto cose straordinarie sotto il punto di vista della legalità e della lotta alla criminalità. Penso a Spaccioarte. Spaccioarte siamo andati noi nei quartieri, lì dove c'erano le piazze di spaccio e abbiamo fatto eventi, eventi culturali disturbando gli spacciatori e i criminali. Gli sornelli sul camion, secondo lei? No, no, sto dicendo per la lotta alla criminalità, questo è qualcosa che comunque è importante e comunque va considerata. Siamo noi che abbiamo abbattuto le ville del... Allora, mettere i presidi, mettiamo un punto perché se no non lasciamo vivi. Mettiamo un punto, mettiamo un punto. Allora, Santori, velocemente, mi ricorda invece la formula della buona politica, un altro libro che lei ha fatto, meraviglioso. Se è possibile intanto rispondere... Prego, prego. Perché sono d'accordo sul fatto di dare maggior forza al Consiglio Comunale, questo però è un problema che riguarda soprattutto i consiglieri di maggioranza, perché chiaramente avendola vissuta anch'io all'epoca nel 2008, l'ha vissuta Ferrara, adesso la vivrai tu, il tema dei consiglieri di maggioranza che vengono un po' scavalcati dalle decisioni prese della Giunta, quindi io sono felicissimo che ci sia un ritorno di decisioni che alcune sono naturalmente obbligatorie come il bilancio, il patrimonio, però altre passano sopra la testa, quindi in quell'assise dove tutti i partiti sono rappresentati, se c'è questa volontà, ben venga. Peraltro nell'assise è stata eletta anche, credo, Sabrina Alfonsi che è stata presidente del municipio, che era contraria a questi tavolini e quindi non credo che le autorizzazioni lì al porto di Ottavia non siano stati dati dall'Alfonsi, non dalla Raggi, ma detto questo, il tema vero, il tema vero è che non è che noi aumentiamo da tre a sei giorni per la presenza dei tavoli sui ristoratori, che peraltro abbiamo sempre chiesto e quindi siamo assolutamente d'accordo, perché generano vita e luce sul territorio e anche sicurezza, ma c'è molto di più, cioè gli eventi che devono essere fatti, eventi internazionali, che non devono essere in qualche modo soltanto sporadici come è avvenuto in questi anni, si sono rifiutate le Olimpiadi, c'è stato tutta una serie di cose che hanno massacrato la città, a parte la questione del Covid, ma noi dobbiamo aggredire tutto ciò che riguarda il mondo del turismo, quindi le fiere, gli eventi internazionali, come quello che abbiamo perso poco fa, purtroppo che è andato a Torino, l'Eurovision, se non sbaglio, insomma ci sono queste grandi realtà che noi dobbiamo portare nella città di Roma o comunque far organizzare eventi di rievocazione storica, auto e moto storiche, cioè noi ogni fine settimana dobbiamo avere un evento nella città di Roma da mettere nel calendario e pubblicizzare dall'autunno all'estate, dall'estate all'autunno, così come fanno nelle grandi regioni del nord, dove hanno una calendarizzazione, quindi io vado lì d'estate e trovo già il programma dell'autunno, questo è la mentalità che va a cambiare, non l'estatina romana che c'è stata fino adesso, forse prima qualcosa di meglio, ma di fatto che non rende la partecipazione del turista. È d'accordo, Corbucci, su queste cose? Beh sì, sull'estate romana, diciamo, aggiungo che ci sono state grandissime estate romane che portavano, diciamo, a Roma, quelle ovviamente del passato, mi riferisco, che portavano a Roma davvero i turistici che venivano da tutta Europa per fare l'estate romana a Roma ed è questa un'inversione da cambiare perché giustamente Fedele Alberghi ci ricordava che qui i turisti rimangono due giorni, due giorni e mezzo. È una perdita economica enorme. Quindi sono assolutamente d'accordo e credo che sia fondamentale far rinascere questa città trovando anche la capacità di far investire gli imprenditori. Noi abbiamo perso negli ultimi anni e non me ne voglio, però abbiamo perso realtà come Sky, abbiamo perso realtà come Alma Viva, cioè dei centri che portavano un lavoro a questa città, alle persone che hanno bisogno di lavorare in questa città perché il Covid ha portato anche una grande crisi occupazionale che ha colpito soprattutto le donne in modo particolare ma anche i giovani che avevano ovviamente lavori non purtroppo stagionali e non ovviamente a tempo determinato e molto spesso a tempo indeterminato. Quindi noi dobbiamo rimetterla in piedi questa città da questo punto di vista. Io credo che ci saranno le risorse. Questo è il grande elemento di cambiamento. Certo dobbiamo cambiare anche un po' noi. Cioè quando io dicevo e vado un po' oltre non era solo per la questione dei consigli di maggioranza che l'aula girocedere deve tornare a essere quello che in realtà è ovvero un centro nevralgico importante politico che noi ci chiamano onorevoli perché teoricamente i consiglieri comunali hanno diciamo uno status equiparato a quello invece di chi fa le leggi. Noi non facciamo le leggi ma siamo comunque i consiglieri della città più importante di questo paese quindi noi dobbiamo assolutamente incidere sulle decisioni diverse e quindi tanti portatori e tante visioni diverse anche quelle rispetto al Partito Democratico al centro-sinistra della maggioranza il nostro compito dovrà essere quello di rimettere un po' al centro la capacità collettiva di immaginare il meglio per la nostra città. A livello nazionale invece Partito Democratico e Movimento 5 Stelle viaggeranno su due binari separati continueranno a viaggiare insieme dipende dai casi? io credo che come diciamo siamo tutti in un grande equivoco le elezioni politiche probabilmente si faranno col sistema proporzionale e quindi ogni partito andrà con diciamo il suo programma politico e il suo presunto candidato diciamo Presidente del Consiglio è evidente e chiaro che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle ad oggi hanno incominciato un percorso che è molto lungo ovviamente che può portarli ad avere delle visioni dei punti programmatici in comune e noi guardiamo con attenzione a quello che sta facendo il Presidente Conte e il Movimento 5 Stelle anche per diciamo nel processo di cambiamento che ha messo in campo quella forza politica e quindi noi abbiamo fatto lo stesso diciamo dopo la dimensione di Zingaretti abbiamo letta avremo un congresso probabilmente nella primavera prossima e quindi lì diciamo traguarderemo quello che è risultato sta facendo bene Conte secondo lei? il Movimento 5 Stelle non sono in grado diciamo di dirlo secondo me ha fatto bene da Presidente del Consiglio quindi è stato un buon Presidente del Consiglio secondo me sì Santori secondo lei è stato un buon Presidente del Consiglio? assolutamente no però è stato anche il vostro Presidente del Consiglio per un periodo assolutamente sì io parlo del Conte Bis chiaramente con idee che sono state un po' inserite nel contesto dell'alleanza con il Partito Democratico quindi idee diverse hanno cambiato i decreti di sicurezza sono intervenuti su determinate altre questioni che riguardavano anche il governo precedente però Conte è stato debole ha scelto Arcuri che è immischiato in una serie di vicende veramente vergognose che riguardano la pandemia e quindi su questo poi vedremo come andrà avanti la magistratura però insomma la debolezza di Conte è venuta fuori in tutto quello che è accaduto poi successivamente col fatto che peraltro Gualtieri da Ministro dell'Economia ha lavorato in quel governo io penso che sia stato un giudizio totalmente negativo negativo che viene poi dal territorio perché ci sono state comunque le elezioni sembra che le persone non la pensino in questo modo perché Conte in questo momento riempie le piazze secondo me è stato uno dei migliori Presidenti del Consiglio degli ultimi tempi lo dimostra il fatto che è molto amato è molto amato da tutti i partiti addirittura per cui è un catalizzatore di consensi può fare ancora bene sia per il movimento che per questo paese io ne sono veramente sicuro non lo penso solo io lo pensano anche gli ascoltatori che in questo momento ci stanno vedendo d'accordo? no va bene solo Sartori solo Sartori pensa che non sia forse con l'appello di Ferrara qualcuno sarà dalla sua parte però dico io non faccio appelli parliamo di cultura invece che è più interessante tanto Conte c'è chi lo ama e chi lo odia come un po' tutti i politici no all'inizio mi piaceva molto non troverete un accordo nel suo modo però ho visto che questa sua debolezza che poi è venuta fuori con il fatto che ha lasciato appunto il governo però c'è stato anche il papete cioè sarà che sono debolezze e debolezze per le ipotetiche per le ipotetiche non c'entra nulla lì era un'azione complessiva del Movimento 5 Stelle che aveva messo delle barriere nel governo ai ministri della Lega e anche ai sottosegretari quindi quella è stata la conseguenza ognuno se la racconta come vuole in politica però a parte questo Conte a me è piaciuto molto nel suo modo di essere diciamo che non avevamo un presidente di grande stile da diverso tempo quindi a me è piaciuto molto all'inizio poi la sua debolezza di dover cedere poi alla sinistra e a determinati obiettivi o comunque valori principi che stanno a sinistra chiaramente mi fanno perdere la speranza in un personaggio sono d'accordo con lei comunque però a prescindere se uno gli piace o no a prescindere di quello che ha fatto però gli ultimi due presidenti comunque almeno per quanto riguarda lo stile non parlo di contenuti se no ho ricominciato a litigare no 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 anche la gestione della pandemia secondo me ha fatto molto bene però per quanto riguarda lo stile questo non si può negare e poi Draghi cioè ci meritiamo figure comunque che possono sbagliare o non sbagliare però che abbiano comunque uno stile di un certo tipo e che almeno parlano l'inglese Corfucci cioè almeno questo e non sbiascicano cose strane in toscano senza fare nomi questo l'ha detto lei Corfucci? no io credo credo adesso credo che invece Conte abbia dimostrato noi adesso ne stiamo parlando perché ci sentiamo che ne siamo venuti fuori e speriamo che sia così dalla pandemia ma c'è stato un grande coraggio da parte di quel governo ad affrontare in quella situazione la crisi sanitaria prima e quella economica e sociale dopo e io credo che Conte lo abbia fatto bene al suo fianco c'era Roberto Qualtieri come ministro dell'economia è stata una squadra che comunque io credo sono d'accordo con quello che ha detto Ferrara gli italiani abbiano apprezzato nella serietà con cui si è affrontata poi ovviamente si può fare tutto meglio ma la modalità con cui si affrontano crisi così drammatiche ti portano poi a essere punito o a essere apprezzato io credo che gli italiani su questa ragione Ferrara abbiano apprezzato quel governo e perché non l'avete rifatto di nuovo Presidente del Consiglio per la terza eccolo questo richiesto non capisco perché comunque se è stato apprezzato poi l'avete messo da parte peraltro Qualtieri non è stato rinominato nel governo Draghi perché Corbucci se è stato uno smombramento così insomma se andava bene poteva continuare perché? mi pare diciamo che c'è un nuovo governo con Mario Draghi che abbiamo detto più volte è un fuoriclasse talmente un fuoriclasse che addirittura anche la Lega è nel governo diciamo con Mario Draghi quindi diciamo è un fuoriclasse per tutti c'era quello che parlava male l'inglese pure di me credo che in questo momento credo che in questo momento peraltro stia anche facendo discretamente bene quindi insomma da questo punto di vista si può anche migliorare io credo che il governo Conte sia stato un buon governo penso che il governo Draghi sia un ottimo governo un ottimo governo ci salutiamo con la formula della buona politica se me la ricorda è una cosa bella che ha fatto Santori grazie grazie prego ricordiamola troppo buona allora no è la formula del merito in politica e io penso che anche loro la possano rappresentare al massimo livello così come Andrea De Priamo bisogna tornare un po' alla politica del territorio alle persone che vengono scelte dai cittadini perché questo tutto questo astensionismo però lei c'era proprio un libro eh sì la formula del merito addio Cencelli come misurare il merito in politica è il merito proprio la formula M uguale aperta parentesi erit quindi E più E più Scusate E più R più I più T chiusa parentesi però la O sta come onestà se è pari a zero vuol dire che il merito è pari a zero quindi qualsiasi numero moltiplicato per zero fa zero e il resto sono tutte le caratteristiche di un politico che devono essere misurate ad oggi tanti vengono scelti con l'amico dell'amico la persona di fiducia secondo me un'applicazione di questo genere consente di scegliere anche i migliori candidati le migliori persone da porre sul territorio da poter essere punto di riferimento per la gente cioè questa formula è una formula oggettiva è un'utopia non esisterà mai però io ho inventato questa formula del merito in politica che di fatto prescinde da qualsiasi amicizia che ci può essere e dalla fiducia magari io non conoscevo diciamo i libri ma li andrò a leggere perché sono un divoratore di libri e prima del primo consiglio lontale darò un giudizio perché veramente mi ha molto incuriosito ma vabbè poi ve li scambierete i libri comunque sono divertenti vale la pena scoprire un Santori anche al di fuori della politica ringrazio Riccardo Corbucci coordinatore romano del Partito Democratico grazie grazie a voi si riposa qualche giorno sì insomma ringrazio il dottore Fabrizio Santori della Lega e anche scrittore come abbiamo più volte detto ringrazio Paolo Ferrara consigliere uscente del Movimento 5 Stelle grazie a voi che difende a spada tratta l'operato del movimento e Giuseppe Conte ringrazio anche Andrea De Primo che ci ha salutato per motivi ovviamente familiari tra virgolette prima capogruppo uscente per Fratelli d'Italia l'appuntamento con Terzo Millennio torna immancabilmente domani grazie per essere stati con noi passate una buona serata a domani ciao ciao